Ehi, ciao! Tu sei qui per l'assessione di ipnosi, vero? Bene, allora dimmi, è una prima esperienza questa? Ok, non ti preoccupare, non è niente di spaventoso, basta che segui le mie parole e la mia voce, io ti guiderò e sei al sicuro, puoi rilassarti. Ok, allora intanto direi di prendere una posizione comoda, quindi siediti oppure estraiati se preferisci e ti chiederei anche di rilassarti, quindi posizione comoda e rilassati, perfetto. Ricordati che sei al sicuro. Intanto chiami gli occhi aperti e ti chiedo di seguire il movimento del pendolo, senza interruzione e senza sbattere le ciglia. Cerca di non chiudere gli occhi e segui il movimento del pendolo, rilassati, sei al sicuro. E' il tuo momento. E' il tuo momento. Lasciati andare. Cerca di non chiudere gli occhi e lasciati andare. Perfetto. Adesso puoi chiudere gli occhi. Chiudi gli occhi. E segui la mia voce. Io sarò la tua guida. Immaginati in un posto tranquillo, un posto sereno. Immaginati, ad esempio, in una spiaggia. Sei lì, che stai camminando lungo la spiaggia. Senti la sabbia calda sotto i piedi. Senti il sole che ti abbraccia. Lo senti proprio sulla tua pelle. Senti il suo calore. E questa cosa ti piace. Ti rilassa. Ti fa sentire a tua agio. Poi senti le onde. Le onde del mare. Le onde delicate. Le onde costanti. Le onde che ti fanno rilassare. Le onde che rilassano la tua mente e il tuo spirito. Qui, finché cammini, lasci dietro tutto quello che accade nella quotidianità normale. Non c'è più la quotidianità. Non ci sei. Solo tu. Il mare. E questa bellissima sensazione di sollievo. Non c'è null'altro. Sei rilassato. E sei sereno. Tranquillo. E il tuo corpo non sente alcuna tensione. Non c'è nulla che possa spaventarti o che possa farti del male. che ti sei al sicuro. E' un posto perfetto. E' un posto perfetto. Tutte le volte che ne avrà il bisogno. Adesso pensa. immaginati straiato sulla sabbia calda, la sabbia scottante sulla tua pelle. che però ti fa piacere. Ti trasmette una sensazione di piacere perché rilassa i tuoi muscoli della schiena. di tutta la schiena, di tutta la schiena, delle gambe e delle mani. E' una sensazione che ti dà un sollievo fisico. oltre a quello mentale. Con il sottofondo delle onde costanti. Ricordati che sei al sicuro. Pensa, immaginati accanto, una persona che vorresti tanto vicino a te. Immaginatela lì, accanto. E' una persona che ti vuole bene. Che ha il piacere di essere lì con te. E condividete questa sensazione di purezza. Di rilassamento. E di serenità. Ti senti completo. E ti senti felice. Guardati questa sensazione con le onde del mare. Io adesso inizierò a contare. E ti darò istruzioni. Sul tuo rispetto. Basteranno 5 secondi. Quindi... 5 4 3 2 1 Svegliati. Svegliati. Ok. Adesso hai scoperto un nuovo mondo. E' un mondo tutto tuo. E' un mondo tutto tuo. Ricordati che ci potrai sempre tornare. In qualsiasi momento della giornata. O in qualsiasi periodo della tua vita. E' lì che ti aspetta. Ed è tutto tuo. Buonanotte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.